Se questo video supererà 30.000 mi piace ho una sfida Andiamo a completare tutto l'album in 24 ore Ci riusciremo? Salve a tutti ragazzi e bentorni di Mike Show Show Siamo tornati con un video sul calcio E oggi uniamo la realtà con il gioco Oggi facciamo una sfida classica Le figurine panini 2023 decideranno la nostra squadra su FIFA Aprirò 10 pacchetti della nuova raccolta figurine panini calciatori 2023 E in base a quello che ci uscirà creeremo la nostra squadra Vi assicuro che sarà particolare Potrebbe uscirci un campione della serie A Potrebbe però uscirci anche qualcuna serie B Andremo a costruire un 4-4-2 con cui andremo a giocare online Ho paura, concedetemi di avere paura Ma vi spiego Come sapete ho ricevuto un pacco gigante da panini tutto a tema serie A All'interno ho trovato la raccolta calciatori adrenalin E la nuova raccolta di figurine calciatori panini 2023 Che appena uscita e quindi spacchetteremo questa Ogni bustina contiene 5 figurine e un punto per il concorso calcio regali Un grande ritorno per tutti gli appassionati Ovviamente più punti accumulerete e più saranno i premi che potrete vincere E io qui al momento ho 3 box da 100 bustine Che potete trovare anche voi sul sito panini.it Ma dal 10 gennaio uscirà anche il box da 120 bustine Dove all'interno dovrete 2 extra stickers garantite Ci sono in tutto 20 extra stickers Ognuna per ogni squadra della serie A Sono super rare E a proposito di figurine Ma avete visto quanto sono belle? E c'è un altro grande ritorno Perché a marzo e aprile Tornerà il panini tour Dove tantissimi appassionati possono incontrarsi E perché no Scambiarsi anche le figurine Se questo video supererà 30.000 mi piace Ho una sfida Andiamo a completare tutto l'album in 24 ore Ci riusciremo? Ma soprattutto vi aspetto questa sera Perché ho un'altra sfida Visto che abbiamo più tempo Perché non facciamo una carriera con le figurine Le figurine decideranno la nostra squadra Come in questo caso Però ad ogni sessione di mercato Andremo ad aprire 5 bustine E potremo comprare i rinforzi Solo tra quelli che ci usciranno Può uscire di tutto Può essere buono oppure no Quindi ragazzi sarà lavoroso Vi aspetto questa sera Mentre la collezione Adrenaline È la collezione di trading cards Dedicata alla serie A Queste carte sono veramente bellissime E potete giocare sia con i vostri amici In logo che online Trovate tutta la collezione In edicola o su panini.it E ci sono oltre 110 carte speciali Tra stella, idolo, saietta Fino all'invincibile E devo dire che sono veramente bellissime Trovate tutto in descrizione Ma adesso iniziamo Andiamo a spacchettare Andiamo a creare la nostra squadra Ok ragazzi Ci siamo Primi dieci pacchetti Speriamo bene Aprirò con un metodo Un po' casareccio Ma questa sera ci divertiamo Primo pacchetto ASMR Senti, senti Nooo Sì, anzi sì Anzi sì Neanche a farla apposta Prima carta Tra le mie preferite Su FIFA Shomurodov E l'attaccante Ce l'abbiamo Stemma della Ternana E del Venezia Sean Victor Makingo Sai che questo Nella realtà Mi piace un sacco Ok, Makingo Centrocampo ce l'abbiamo Oh, non ci sta dicendo male Lopes The Sears E l'attacco ce l'abbiamo E un punto per il concorso Calcio premi Allora ragazzi Intanto andiamo agli ammettere Se è possibile Andiamo a prendere la versione speciale Di quella carta Un po' per mettere il pepe Però non ci ha detto male Perché Vabbè, Shomurodov lo conoscete Giocatore fantastico C'è pure The Sears Farzugo, eh Ci potrebbe pure stare Paradossalmente Ci abbiamo Il centrocampista Difensivo Con delle statistiche Pure egregie Poi ci abbiamo Lopes Invece che quello Un po' più offensivo Mi piace Dai, oh Continuiamo così Signori di Vanini Cioè al primo pacchetto Abbiamo preso 4 titolari Adesso Speriamo nei ruoli giusti Secondo Oh Locio Svili Mai sentito Ose Macinna Non so chi sia Don Belè Me lo prendo Me lo prendo Don Belè Che c'abbiamo Che c'abbiamo Ok, un po' di stemmi Ebuhei Mai sentito Eo, Don Belè Me lo prendo Ma chi è sto Ebuhei Ragazzi Mai sentito Terzino destro Mettilo là Corre pure Questo no, raga Questo no Lo mettiamo in panchina Ah, locio Svili È un difensore centrale Adesso ce ne abbiamo Due back to back Uniamolo a questo Oh, doppione Ah, primo doppione Ok, ci abbiamo Oh, bellissimo Lecchimi Nuova firma Bella però la carta, eh Poi ci abbiamo Olivera Bellissimo Terzino sinistro Ottimo Oh, George Best George Best Mazza ragazzi Ci sta di bene, eh E questo era solo Il primo pacchetto Secondo Consigli il portiere Ottimo Stemmi Demiral Mamma mia Ci sta dicendo benissimo Ok, l'altro attaccante Pellegri Va bene No, Gasperini No No, ma come Gasperini No Forse non serviranno 10 pacchetti Eh, perché siamo messi Veramente bene Ma sto Lukumi Non sapevo chi fosse Ma guardate Ottimo difensore 70-70 Pesso un 73 Cioè, noi giochiamo tranquilli Con questo, eh Il terzino destro Mi sembrerebbe buono Vorrei giocare con lui C'abbiamo Maruzic Che possiamo spostare a destra E mettere Olivera Piano piano, ragazzi Piano piano Il portiere Demiral Vai, prossimo pacchetto E siamo al giro di Boa Siamo a metà Cinque Il Gallo Velotti Mi sta bene Chi è chi? Oh, sì Di Maria Nuova firma Ma questa è clamorosa, ragazzi Posso mettere la carta Della Coppa del Mondo Ah, goto Pedro Bianca Va bene Reca La maglietta del Verona Un punto Clamoroso Questo è clamoroso Altro pacchetto Signori Di Vanini Un esterno destro E ci abbracciamo Lovric Odin Skrignar Madonna, ragazzi Stiamo a fare una formazione Clamorosa Ah, direttamente Dalla Serie B Del Modena Per esempio Quando faremo la carriera E ci usciranno Quelli della Serie B Avremo ben quattro possibilità In questo caso Sceglierò io uno E lo stemma del Monza Ma non c'è Belotti Su FIFA Alte due insieme Andiamo veloci Oh, Lobocca Buono Milenkovic Buono anche lui Cesc Fabregas Del Como Un po' di giocatori da lì Lukman Ci è stato di troppo bene Stiamo a fare una formazione Clamorosa, eh E Marco Baroni Repubblica Italiana Carta speciale numero 00 Pradaric Di Ogropulos Ora più Centrocampo E' goloso Dijan Ragazzi, ma questa è clamorosa Pazzesca Pensavo di avere un attacco forte Ma così è fortissima Ultimi due pacchetti Ma abbiamo già una squadra clamorosa Carne secchi Oh, Kikko Chiesa Vabbè Ragazzi, ci serviva l'esterno destro Kikko Chiesa Spinazzola Mi piace Danilo Vabbè, questo pacchetto è stato bellissimo Marlon Bellissimo ragazzi Ultimo pacchetto Con Ostigard Florenzi Giocatori del Parma Pure Gigi Buffon Un trofeo Giocatori del Cagliari Ragazzi, andiamo a costruire sta squadra Va Ragazzi, non mi aspettavo di creare una squadra così forte Perciò La primissima partita Ce la facciamo Con i primissimi giocatori che abbiamo trovato Per andare a upgradare Per dare un po' di pepe E quindi ragazzi Ecco La squadra Che è clamorosa lo stesso Perché in porta abbiamo Consigli Lukumi Demiral al centro Con Ebuhei Olivera a sinistra Reca Lopez Makhengo Eudin In attacco Shomurodov Deser Poi ovviamente La prossima la facciamo con i più forti che abbiamo trovato E sarà clamorosa Ci siamo È la prima partita Vediamo un po' come va Soprattutto chi becchiamo Uno con una formazione clamorosa O no Oh Oh Fermati Fermati Oppure lui Un po' di serie A Ma noi non ci importa ragazzi Perché noi abbiamo la serie A Quella che ha deciso il destino Vai ragazzi Si parte Ma si Klawich eh Noi non ci possiamo opporre Al nostro destino Guardalo Demiral Come lo ferma Come se sprint a boost Bene Bene Benissimo Va bene Benissimo Berardi Va bene La prima è dei polletti ragazzi Tranquilli Ma non c'è problema I miei un po' piantati Però ci potrebbero andare molto peggio ragazzi Una fascia sinistra Olivera Dai Desers Aspetta voi muove Bravo Lukumi E si riparte E si riparte Ma Gengo Ma Gengo Lo fa correre Udin Oh Oh Lo perse No 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 Lo perse Perché Perché Ci dice pure male Ci dice pure male Ragazzi Non abbiamo paura di nessuno Guardate Eserso come manda Reka 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 No Reka Perché E faccio ste cose Questo è andato No c'è Lukumi Stiamo a scoprire talenti noi Shomurodov Giocatore fantastico Guarda che giocatore fantastico Shomurodov Alla rega Fatti perdonare Eh no Ce la meridiamo eh Uh Oh no Uh 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 Ancora Udin La pennella Desers Ma come Ma la palla La porta è stata All'altra parte Desers Tanto ragazzi Sto Udin L'ho pagato tantissimo Allora ragazzi Ce la meridiamo eh Ce la meridiamo Sta partita Ce la meridiamo Cosa fa Shomurodov Cos'hai fatto Shomurodov Vabbè dai Ma questo tira a caso E segna 0-2 ragazzi Ma ce la stanno a meridare È tranquillamente Ribaltabile Sta partita No dai Un po' E dai Ma c'ha le micce C'ha le micce Vabbè qua ho sbagliato io Però dai Un po' Tira le micce Così Questo ha fatto tre tiri Ma tre proprio Serviglia Serviglia Tranquilla Serviglia Con un po' più di difficoltà Ti chiede un pasticcino De Sers Ma questa lo fa eh De Sers Questo non se lo caga E non è possibile Non è possibile Capisci Capisci che non è possibile Raga Ma ci stiamo solo uno in campo eh Sì vabbè Certo Non esistono i falli Oh Oh dai Oh Eh Come fa trifletta A kin Me ne vado De Sers Ci saluta adesso Al 44esimo Questa di Maria Non è zia L'altro di Maria L'avevamo pure trovato In fretta insomma De minimissimi Non cazzo no Non cazzo non l'accetto No Vabbè Al 40 C'è tutti Ha fatto 4 tiri Ha fatto 4 tiri Sto aperto 4 a 0 Guarda guarda X finisce Ah beh C'è giusto Allora ragazzi Stiamo prendendo La paga Guardate voi Guardate voi Andiamo chicco Andiamo chicco Andiamo chicco No vabbè ragazzo Cioè non è possibile Dai dai Sono maledetto Su M'hanno maledetto il pad oggi Sì vabbè Non è calcio di rigore Tranquillo Ma lo vogliamo fare Un gol Vai Shomuro Sbaglia pure questo Non è possibile Ragazzi non è possibile Non è possibile Non l'è Lo Shomuro Manca adesso No no Quit 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 Questa ansiedola vince Andiamo avanti E la prima è dei polletti La sappiamo La sappiamo Prima di giocare con la squadra forte Ragazzi Voglio dimostrare Che ce la possiamo fare con questi E questa a me sembra pure Una formazione discreta Non ho i cambi offensivi Ma non servirà ragazzi Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Dobbiamo dimostrare Che quella era una partita Scriptata Su Bello rega Mamma mia rega L'ha mandata di al bar Uh Desserts Aspetta Gliela da Fuori gioco Gli ha dato un po' il ritardo Ma ragazzi E il Dessert Arriva sempre per ultimo No Grazie Makingo Bello Lo lascia lì Ehi E no Rosso diretto Dopo tre minuti Adesso ragazzi Virò Maximen lo pesce Vado 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 Bravo No Ma tu fai solo i passaggi E li sbagli così Dai buè Dai buè Dai che roba tua quella Bella Bella Aspetta che la metti in mezzo Per favore basta No Fermi Dai per favore basta Ve ne prego Basta Ho dato Demirallo Vai sì così Rigioco pure questo Porca zozza Dai buè Bravo No No Non devi cadere Bravo Bravo Mandalo Mandalo Vai showmuro Vai showmuro Vai showmuro Vai Verso il maghetto Cudini Vaglia la scucchiaia Eh niente Ci stiamo avvicinando ragazzi È maturo È maturo È maturo Dai ma gengo Bravo ma gengo Sapo Bravo ma gengo Sapo Oh Oh Deserz Gli l'hai fatta Mamma Mamma Ragazzi Che sofferenza Qua ne manco male È solo un po' lento Bravo Shomu Bravo Shomu Mannalo 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 che va Mannalo che va Professionista vero Deserz Professionista vero Ve l'ho detto ragazzi L'aggancia la butta dentro Doppieta Oh 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 Entrano tutte adesso Shomurodo Festeggia Un parto è stata Stavartita Sì 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 Lukumi Mamma mia ragazzi Oh Ma sono dei fenomeni adesso Guarda come attaccano Deserz per la Triple Eh no Adoro Ragazzi Ma non mi entra tutto Ma non mi sta entrando tutto E come la vedo io La partita è finita ragazzi Però Continuiamo a giocare Il meme Oh Deserz lo sdraia Lo sdraia E parte 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 Vede il machetto Udini Segna E fa quittare Vedete ragazzi Abbiamo ristabilito L'ordine naturale delle cose Ah ma non quitta Ah beh Ma adesso proviamo Con la squadra più forte Questa invece è la formazione Dei più forti Che abbiamo creato Ragazzi Questa è già vinta Su Chi è il nostro avversario Non lo vogliamo sapere Forza 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 Chic Andai Ok ok Va bene va bene ragazzi Ho delle fasce clamorose Oh Oh mi è entrato Sanè Mi è entrato intanto Sanè Non lo farai Perfetto Perfetto E Marusic Con la sua influenza negativa Mamma mia Rabbio ragazzi Rabbio Vedete il gioco Prima degli altri Di Maria Di Maria Di Maria Allora ragazzi Questa è una delle carte Più forti Che ho mai usato Mamma mia Sicuramente quest'anno Che giocatore Meno male che mi è uscito Pure subito Bella partita Bella traiardata Come piace a noi La potere da Rashomuro Eeeh albero Ma come Ragazzi incredibile Di Maria ha buttato Giù Van Dijk Eeeh vabbè Allora Che temo fa Oggi è così ragazzi Cosa potrà mai fare Shomurodov da lì Se non All'italiana Eeeh Eeeh E niente Niente ragazzi Però lo stiamo pushando Vai Rabbio Intrufulati Come solo tu sai fare Bravo Rabbio Eeeh Mamma mia Vlaovic è un po' lentone Allora ragazzi È una partita traiardata Non me lo sarei mai aspettato Però sto pensando Se facciamo la carriera Diventa una cosa Super divertente Allora si deve svegliare Vlaovic Bello Invece Ha fatto un bel passaggio Vai di Maria Oh lo manda Alberetto Puuu Allison Che mai preso Allison Nooo Me ne è rondato Chichetto 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 Niente Aspetta Vai ma Ne Oh Eeeh Vai C'ho murato Per la riserva Sempre Lui Qua però ragazzi Se ne era andato In una maniera Sontuosa Dai rabbio Bravo rabbio Dai rabbio ancora Dalla a quel pezzo De legno Non ne prende una E stanno perché C'ha pure una bella Guarda Bravo Guarda Shomurodov Andalbar Van Dijk Espepinf E seguita A casa Monti Questa era La nostra squadra Decisa Dalle figurine Calciatori Panini 2022 2023 Trovate tutto In descrizione O passate su Panini.it Noi questa sera Proviamo una modalità Carriera Decisa Dalle figurine Non mancate 21 e 30 Un saluto a tutti A me Ciao 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 Ciao